Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un velocissimo gioco di carte che vedete qui piccolino in questo pacchetto. Il gioco si chiama Parola della RM Giochi, che è un nuovo editore di giochi da tavolo, che mi ha mandato questo prodotto per presentarlo in un video. Un prodotto velocissimo, un prodotto tascabile al 100%, cioè un pacchettino di carte veramente, come le carte da gioco, ed è un titolo veramente interessante, immediato e secondo me che si prende tranquillamente, si porta ovunque, ma soprattutto lo vedo più consono proprio, la classica partita fra magari ragazzini o più giovani al mare e in spiaggia. Questo ci sta veramente bene per passare un pomeriggio tutti insieme. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Parola della RM Giochi Parola della RM Giochi è un gioco di carte molto, molto, molto veloce ed immediato, laddove vi ricordo che il regolamento non è comprensivo dentro la scatola, ma vi basta andare sul sito rmgiochi.regole o scannerizzare il QR code. Quindi fate una scansione col telefono del QR code e andate direttamente nella pagina delle regole. Ed è un titolo veramente di una facilità disarmante, perché voi dovrete andare a prendere delle carte da un mazzo comune al centro del tavolo e poi in senso orario andare a pescare una carta a testa. Con queste carte che andrete a pescare avrete una mano di carte che poi dovrete mettere giù per formare una parola. La parola deve essere composta sempre da sei carte, scegliendo la parte alta o la parte bassa, perché ad esempio, come avete visto, sulle carte sono doppia faccia, girandole e capovolgendole, c'è una lettera da una parte e una lettera dall'altra con un punteggio, perché chi riesce a fare una parola, ovviamente di senso compiuto, avrà il punteggio segnato da quella linea. Ed è veramente carino perché c'è questo mazzo comune al centro del tavolo da cui tutti a turno pescano una carta e se la mettono in mano. Quell'altro pesca una carta e se la mette in mano. Quando ha una lettera da attaccare, ovviamente, o una serie, soprattutto una serie di lettere da attaccare alla prima carta che viene pelata, che viene sempre messa sul tavolo e quella è l'inizio della parola per tutti, potranno andarci ad attaccare quelle altre. Quindi magari se, ad esempio, la prima messa sul tavolo fosse la lettera P, una parola, ad esempio, potrebbe essere Padova, il nome della città con la prima lettera P, i giocatori vanno a vedere pelando le carte, pelando le carte, fino a che non hanno ovviamente una parola in mano, e al momento che hanno una parola devono fermare il gioco dicendo parola, e questa è una regola essenziale, perché se buttano giù le carte e non hanno detto parola, gli altri possono contestare, levargli il punteggio, e ovviamente gli prenderanno anche una carta di quelle che ci aveva in mano. Quindi bisogna sempre stare attenti a dire parola prima di buttare le carte. A quel punto il giocatore abbasserà le sue carte, le metterà una sotto l'altra per andare a formare una parola di senso compiuto, ovviamente, e quando questa parola sarà formata, prenderà il punteggio, leverà le carte, prenderà il punteggio evidenziato sotto tutte quante le lettere che ha messo, fatta la parola, preso il punteggio, messe le carte, e si ricontinua il giro come prima. Quindi è un gioco veramente molto facile, è un gioco interessante, è un gioco carino, anche perché ti mette in moto la mente, e immaginatevi un gruppo di ragazzi, infatti è un gioco, se non erro dai 7 anni in su, età 7 o più, da 2 a 10 giocatori, quindi si gioca anche in tante persone, che ve lo portate al mare e ci fate una partita con chiunque. Io non penso che nessuno avrebbe mai il coraggio di dirvi, no, una partita non me la faccio, perché è davvero un gioco per tutti, e poi magari potrebbe uscire anche qualche termine, qualche parola che fa ridere fondamentalmente, e quindi è bene, è bene che sia così, è un gioco veramente alla portata di tutti. In conclusione, questo titolo è veramente carino e secondo me a qualsiasi tavolo, ma soprattutto non tanto a qualche tavolo, per portarlo in gira a qualche festa, compleanno o al mare, per me è uno dei giochi perfetti per l'estate, poi dal prezzo ovviamente molto contenuto. Ringrazio ancora una volta la RM Giochi per avermi offerto questa copia per la recensione, se lo volete ordinare vi lascio il primo link in descrizione, per andarla ad ordinare direttamente sul loro sito, e dateci un'occhiata perché è un titolo, ve l'ho detto, fresco, alla portata di tutti, ed è il prodotto forse migliore, uno dei migliori tascabili per quest'estate al mare, in campeggio, comunque fuori di casa con gli amici. Ciao ragazzi, alla prossima!